Commemorazione dei defunti questa mattina al Pantheon, ma anche ricordo dei caduti con una targa deposta al cimitero inglese. Una giornata nel segno della memoria della sinergia tra le forze dell'ordine, ma anche un monito per i cittadini. Una giornata importante, ricordiamo oggi tutti quelli che sono deceduti nell'attempimento del proprio dovere, nelle varie guerre tra le forze di polizia, quindi dobbiamo esprimere gratitudine e riconoscenza. Giornate come oggi si insegnano come i valori della pace, della giustizia non siano valori dati per scontato, quindi bisogna sempre impegnarci tutti noi a fine di garantire il mantenimento della pace, della giustizia e della legalità. Ammiradio, spesso si ricordano, sembra che i valorosi delle guerre, delle forze dell'ordine stiano sulla terra, tanti, tantissimi sono quelli invece che periscono in mare, che lavorano in mare. Sì, è un'attività che ovviamente implica la presenza delle forze armate in tutte le dimensioni, quindi mare, cielo e aria. E' giusto oggi ricordare i nostri caduti, perché in un mondo così frenetico, che è sempre in continuo movimento, è bene fermarci e ricordare un momento tutte le persone, militari e non, che sono caduti per la nostra bandiera. Non è retorica, ma è un messaggio forte per chi ancora crede in dei valori che sono assoluti e che vanno al di là di ogni politica. La città ricorda i propri caduti in tante occasioni, questo è un momento particolare? Un momento assai significativo, simbolico, ma di profondo senso, la famosa Pietas, la comunione con i nostri defunti, la città, le forze armate che si raccolgono intorno alla memoria, anche di chi ha difeso la pace, ha difeso e ha compiuto fino in fondo il proprio dovere, quindi un bellissimo momento da condividere con tutta la città. Grazie a tutti.